Buongiorno e bentrovati In questa edizione di mattino 6, in questo mercoledì 31 maggio 2017, pronti a sfogliare le pagine delle testate locali, ma anche a vedere le prime pagine delle testate nazionali, anche a rivedere alcuni servizi del TG6 realizzati ieri dalla nostra redazione. Iniziamo subito dalle quattro edizioni del centro, le prime pagine, siamo sull'edizione aquilana, l'apertura, meno tasse per le imprese in crisi, il patto dei sette aspiranti primi cittadini all'Aquila con Confindustria per la ricostruzione. Sotto la testata, scontro sul voto, legge elettorale Renzi insiste, via libera al sistema tedesco. Poi la fotonotizia che è comune alle quattro edizioni del centro. Auguri Noemi, l'iniziativa del quotidiano per i 5 anni della piccola affetta dalla malattia SMA 1. c'è la possibilità di finanziare la ricerca contro le malattie rare attraverso un versamento con un bonifico, vedete anche in questo caso Liban presente in prima pagina del centro, intestato al centro per Noemi. E poi ancora di spalla Avezzano verso le comunali, un confronto all'interno del centro tra i 6 candidati a sindaco. Rigopiano, carta valanghe, richiesta ignorata 5 anni fa. Casalesi, bidognetti, arresto bis per il boss. In basso la tragedia di Pratola, ho provato a salvare mio figlio, parla il padre del 19enne trovato morto nel suo letto. Poi l'edizione di Chieti-Lanciano-Vasto, l'apertura, acqua e rifiuti 20 su 100 non pagano. A Chieti evasione via al recupero, il sindaco comune fermo da anni per poca liquidità. E poi a Lanciano la città nella rete Sprar, in arrivo 90 rifugiati. Sempre a Lanciano, trasporto 118, l'ASL Tiatina annulla il bando. A Vasto, turisti tra erbacce e degrado, il comitato porta nuova al sindaco monumenti in abbandono. L'edizione terramana, indagini sui grandi progetti edilizi tangenti a Giulianova, nuovi filoni e la maggioranza in comune perde i pezzi. Di spalla, ordinanza di chiusura per il caffè Grande Italia, ombrelloni non a norma. E poi ancora l'incidente, tre indagati per il camionista schiacciato a Castelnuovo. La vittima, appunto, lo vediamo, è Roberto Morelli. E poi a Tortoreto, protezione civile, sede chiusa, sigillata dal comune. I volontari, non possiamo operare. L'edizione pescarese, ecco il titolo d'apertura, libri su Hitler in casa dei picchiatori, raid fascista in via delle caserme, scoperti e denunciati gli aggressori dei due ragazzi. E poi per la cronaca, in via Rio Sparto, a Pescara, è incendiato un ascensore sgomberato. 24 famiglie, sempre a Pescara, a fuga d'amore. La 14enne è stata trovata. E poi in basso, Stella Maris, murati gli accessi, chiuso il rifugio dei disperati dopo l'aggressione del Pitbull. E passiamo al messaggero Abruzzo. Il titolo d'apertura, spedizione fascista, due denunce a Pescara, identificati dalla Digos. Gli autori del pestaggio al circolo Arcis Com sono accusati di lesioni, sequestrati nelle loro case libri su Mussolini e Hitler. Soddisfazione per il sindaco Alessandrini. E poi leggiamo ancora in alto, elezioni anticipate e nuova legge, rebus politiche. Si annuncia un'estate caldissima per partiti e aspiranti candidati sotto la testata. L'Aquila rinasce, gli affreschi ritrovati durante i lavori al teatro comunale. Val di Sangro con tecnicamente le multinazionali nelle scuole a caccia di talenti. A Pescara ci sono anche i nodi urbanistici, borgo dei pescatori, fermo da mesi il pieno di recupero. Manca la risposta dell'autorità di Bacino all'istanza presentata dal comune che rischia dunque di saltare il progetto. Tutta la zona in abbandono tra topi e macerie. E poi sempre in alto leggiamo a Teramo sul rimpasto Brucchi prende tempo a Chieti e Expirantoni la rabbia degli sfrattati. Di spalla musica a palla e cuffiette rischio udito per i giovani. La fondazione Nonno Ascolta mi sarà presente nelle aule e nei centri commerciali. In taglio medio la fotonotizia, rogo in un palazzo sfiorata la strage, incendio doloso in uno stabile Ater, sei intossicati a Pescara. Poi l'Aquila verso il voto, intervista alla candidata di Casa Pound Pagliariccio. Prima di tutto gli aquilani. Ed ora nella prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. L'ospedale unico va congelato, le elezioni si avvicinano e l'onorevole Ginobble teme spaccature o perdita di consensi per il PD. Sotto la testata l'incidente a Castelnuovo-Vomano, tre indagati per la morte del camionista napoletano. Mazzette a Giulianova, inchiesta quasi chiusa, venti di crisi sul sindaco Mastro Mauro. Al centro la fotonotizia, l'ospedaletto non si tocca, la sovrintendenza stoppa ogni ipotesi di Asl e Comune. Roseto, ticket, mensa, cari e introvabili. Il Comune scontenta genitori e commercianti. Di Spalla a Tortoretto di Gennaro, venti giorni per accettare il concordato. Botte allo scum, aggressione fascista uno dei due, Eddie Silvi. E poi in basso, per lo sport, basket, il presidente Ruscitti conferma coach bianchi sulla panchina del Teramo Basket. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani locali. Andiamo a sfogliare le prime pagine delle testate nazionali. Iniziando dal quotidiano La Stampa, Renzi, il candidato premier, sarò io. Sì al sistema tedesco, anche se non era la nostra idea, intesa per votare la legge elettorale il 7 luglio. La direzione PD approva la proposta. Astenuti 33 orlandiani, Alfano, aggregherò il centro e supereremo il 5%. In alto, leggiamo, il va nei piani industriali, ci sono 5-6 mila esuberi, i sindacati inaccettabili, diffusi i dati dopo l'incontro al Ministero. E poi la fotonotizia al centro. La caccia al petrolio spaventa le balene e bombe nel santuario dei cetacei Sardegna, Corsica e Monte Carlo alleate contro il progetto. La prima pagina del Corriere della Sera, legge elettorale, l'accordo c'è, Renzi, modello tedesco con soglia al 5%, tensione sul voto anticipato. E poi intesa PD, Forza Italia dopo il sì dei 5 Stelle, Alfano, moderati uniti, Paduan, Timori per le conferme. Poi sotto la testata, contro la paura, Arianna e le star a Manchester. L'idea di Nardella, il sindaco di Firenze, i turisti bivaccano, io bagno i marciapiedi. E poi la fotonotizia, Bono riabilita Bush, in Africa ha salvato delle vite, il leader degli U2 in visita in Texas all'ex presidente, lotto contro l'AIDS. E poi un taglio medio, sempre il piano dell'ILVA e suberi per 6.000, stop dei sindacati. Poi c'è l'editoriale di Danilo Taino, Europa senza Stati Uniti, lo strappo rischioso di Merkel. Avanti con la prima pagina di Repubblica, patto PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, subito legge e voto. Le parole di Renzi, basta con i veti dei piccoli partiti, gli alfagnani, imbroglione, noi restiamo con il governo. Paduan avverte, i nostri conti dipendono da Unione Europea e mercati, difficile modernizzare sotto le elezioni. E poi anche in questo caso si parla dell'ILVA, sindacati in trincea con l'arrivo dei privati 6.000 posti in meno. Le parole del ministro Calenda, la gara è chiusa. E poi la fotonotizia, Guernica, l'ultimo segreto di Picasso, parla José Galicia, amico e confidente, così riportammo il quadro in Spagna. E poi sempre in taglio medio, 10 ragioni per spiegare i Beatles ai nostri figli. La prima pagina del fatto quotidiano, l'apertura, Unione Europea, la cuccagna dei 40 milioni fatti sparire dagli eurodeputati, 4.300 euro al mese per fantomatiche spese sul territorio. E poi sotto la testata, teatri in rivolta contro il comma Barbareschi, lettera a Padoan, perché a lui 8 milioni di fondi. E poi sulla parte destra, fini, conto miracoloso, solo entrate, zero uscite. I dubbi degli investigatori e il sequestro delle polizze. Nell'ambito dell'inchiesta sulla casa di Monte Carlo, gli inquirenti hanno riscontrato strane anomalie, rari movimenti bancari in uscita e nessuna proprietà intestata all'ex presidente della Camera. E poi A.A.A. Ministri cercan sì, 5 stelle a caccia di tecnici, oggi incontro con i giudici. Avanti con la prima pagina del tempo. Oltre alla casa si è fatto pagare la Ferrari, la vergogna di Monte Carlo, la procura di Roma ne scopre un'altra al cognato di fini, i soldi di Corallo, oppure per comprarsi la supercar. E poi forum al tempo con Giorgia Meloni, Berlusconi e Salvini. Ecco la verità. E poi in taglio medio la Corte dei Conti indaga sulle Olimpiadi mai fatte, aperto un fascicolo sulle spese per la candidatura di Roma. La prima pagina del messaggero. Sistema tedesco a luglio e legge. Riforma elettorale via libera del PD all'intesa con Forza Italia e 5 stelle. Renzi non entusiasta ma di così. No di Orlando, Alfano, l'impazienza costa cara al paese. Cresce l'ipotesi del voto in autunno. E poi sotto la testata all'iniziativa. A Manchester la sfida. Arriera grande torna in concerto con parata di star. Poi i cachet dei film, la rivolta delle attrici, pagateci come gli uomini. E poi l'editoriale di Marco Gervasoni, rischio marginalità, contromisure per evitare che il paese arretri. In taglio medio la fotonotizia, Spalletti al veleno, c'era chi remava contro, ufficiale l'addio alla Roma. Di Francesco, la bruzzese Eusebio Di Francesco, verso la panchina. Raggi testimone al processo Marra, ma io non lascio. Il sindaco l'ipotesi del rinvio a giudizio nell'inchiesta per le nomine in Campidoglio. Il giornale, anche in questo caso la vicenda della casa di Monte Carlo, da Napolitano a Saviano, tutti i complici di Fini definivano il giornale macchina del fango. Chiedano scusa e il giudice insiste su Sallusti, imputato per errore. E poi in basso ancora il polverone sul conduttore, attore Flavin Sinna. La parabola del conduttore, la tv è cattiva, scendo in politica. Caro Insinna, non sai che pacco hai scelto. E poi leggiamo l'editoriale. Accordo PD-Forza Italia si va a votare, nonostante Alfano. Legge elettorale entro il 7 di luglio. La prima pagina di Libero. Buttano via i bambini come fossero spazzatura. Neonato abbandonato in strada muore. Ogni anno sono 400 i piccoli scaricati, ma nessuno si scandalizza. Garantire alle coppie uomo di fabbricare figli, sfruttando il corpo delle donne, ci preme più che salvare creature innocenti. E poi ancora, vacanze romane e balneari, la dolce vita del migrante nero. E poi in basso, pur di votare, Renzi sfascia PD e governo. Ottimo, scrive Libero. La verità, Fini fece fuori il ministro Tremonti, poi aprì le porte al gioco d'azzardo. Gli interventi dell'allora vicepremier a favore del re delle slot machine cominciarono subito dopo la rimuazione del titolare dell'economia. La boccetta, Gianfranco, condizionava i lavori parlamentari. E poi le lezioni da imparare nel fondo del direttore Maurizio Belpietro. Il metodo dell'ex AN è ancora in vigore. E poi nel rapporto sui vaccini si parla di cinque morti. Ma la Lorenzin lo sapeva? Si chiede la verità. Andiamo avanti con gli ultimi titoli. Siamo sul manifesto, l'apertura ricatto d'acciaio. Almeno 5.000 suberi all'Ilva di Taranto. Lo prevedono i pieni industriali delle due cordate imprenditoriali, candidati a rilevare lo stabilimento siderurgico. Sindacati in rivolta all'incontro con il ministro Calenda. Richieste inaccettabile. Oggi assemblea straordinaria in fabbrica. L'unità, ma queste leggi dovete farle. Ius soli, tortura, fine vita, riforma penale, cannabis legale. Attendano il tempo c'è anche se la legislatura si chiude prima. Serve la volontà. E poi emergenza lavoro, la solita ricetta all'Ilva via gli operai. L'apertura dell'avvenire, la legge elettorale sotto l'ombrellone. Accordo per luglio Renzi. Il voto è democrazia. La prima pagina del secolo XIX. Ilva esplode il caso Esuberi. Sindacati dai 5 ai 6 mila inaccettabile. Genova accordo di programma a rischio. E poi ancora sul mattino Renzi. Legge elettorale a luglio. Il leader PD accelera sul modello tedesco intesa con Forza Italia il no di Orlando. E poi Sarri de Laurentiis. Il patto è il rinvio intesa sui rinforzi per portiere ed esterni. Non sul contratto. La gazzetta del Mezzogiorno. Anche qui l'apertura. Ilva, la rasoiata indiana, annunci shock a Roma. In programma 5-6 mila licenziamenti. Sindacati subito sul piede di guerra. Tagli inaccettabili. E poi PD, il voto anticipato, scatena la minoranza. Chiudiamo qui con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Delle prime pagine. Ora veniamo ai quotidiani locali. Torniamo ai quotidiani locali andando a sfogliare le pagine. Siamo a pagina 2 e pagina 3 del centro. Buon compleanno Noemi. La vita vince sulla malattia. Oggi la bimba malata di Smauno compie 5 anni. Il papà Andrea Sciarretta parla di un vero e proprio miracolo. Noi genitori ci siamo completamente dedicati a lei con tanto amore e sacrificio. Ci dà la forza per andare avanti e vincere insieme. E poi fondi regionali ai disabili. Arrivano due notizie positive con le parole dell'assessore regionale Sclocco. Grazie a modifiche di bilancio siamo riusciti a trovare 200 mila euro per i bimbi con malattie gravi. E 600 mila per la vita indipendente. Poi anche a pagina 3 viene ricordata l'iniziativa che abbiamo visto già in prima pagina del centro con un conto aperto per stare vicino alla piccola Noemi e con l'Iban per effettuare dei versamenti. Andiamo a pagina 10 e 11 con le pagine dell'Abruzzo. Inchiesta a Rigopiano. Sono rivelazioni dalla regione. La carta valanghe è chiesta già nel 2011 ma la sollecitazione della delibera cade nel vuoto. La novità nell'audizione in procura dell'allora responsabile Belmaggio. E' quanto emerso nel corso del faccia a faccia con il PM sollecitato dagli avvocati del sindaco di Farindola. E in effetti c'è anche l'intervista al responsabile, al dirigente Belmaggio, ma l'hotel non era incluso. La zona sarebbe rimasta comunque fuori dal documento di previsione pericoli. La politica doppi incarichi elettivi professionali e scontro aperto. Marcozzi-Tancredi, la consigliera dei 5 Stelle, dice rimossa l'incompatibilità e una vergogna. La replica del deputato di Alternativa Popolare. Ne sono fiero. Garanzia di qualità. Poi ancora il botta e risposta. Cancellato il divieto dei doppi incarichi elettivi professionali in danno di tanti giovani. Emendamento sacrosanto alla risposta di Tancredi. Che rivendico assicura alto livello della classe politica. Poi la vicenda Santa Croce. Io vittima di un disegno criminoso. L'ultima accusa di Colella. Indaghi la magistratura per dimostrarlo. Poi dall'Europa 1,8 milioni per la pesca. L'annuncio dell'assessore Pepe. Fondi per i servizi e la tracciabilità. Ieri l'annuncio in una conferenza stampa. Ascoltiamo le parole dell'assessore regionale. Dino Pepe. In arrivo fondi importanti per la marineria abruzzese. Si parla di porti, si parla di pesca, ma non solo. Il Fondo Europeo per la pesca ha destinato all'Abruzzo per il periodo 14-20 18 milioni di euro. 4 milioni di euro in più rispetto alla programmazione precedente 7-13. Abbiamo già pubblicato tre bandi. Il primo relativo ai gruppi di azione costiera. Abbiamo messo a disposizione 3 milioni di euro. Poi abbiamo avuto il bando sulla trasformazione del pescato. E adesso è in corso la pubblicazione del bando relativo ai quattro porti più importanti d'Abruzzo. 1 milione e 400 mila euro integrabili con altri 400 mila euro. Quindi 1 milione e 8 a disposizione dei quattro porti abruzzesi per migliorare le infrastrutture, i servizi, l'illuminazione, il miglioramento dei servizi sia per quanto riguarda le imprese di pesca sia per quanto riguarda i cittadini che vivono nelle nostre città di mare. Si parla anche di tracciabilità del pescato. Sì, ci sono risorse anche per quanto riguarda la tracciabilità, così come risorse per quanto riguarda lo sviluppo della competitività e l'ammodernamento delle nostre imprese. E poi bandiremo anche altri avvisi pubblici riguardanti l'acquacultura, un settore molto importante che va sostenuto e sviluppato nella nostra regione. Le pagine della cronaca di Pescara sul centro, raid fascista, libri su Hitler e i Lager in casa degli aggressori. La Digos denuncia due giovani, hanno 24 e 25 anni, sono di Silvia e Pescara. Oltre a pubblicazioni di estrema destra, ha sequestrata anche una mazza. Poi tornano in libertà i tre fermati per il furto all'edicola su Viale della Riviera. Saranno processati il 19 di giugno. Dopo quattro giorni di ricerche, ritrovati i fidenzatini scomparsi, la polizia li ha scovati a Rancitelli. Sempre a Pescara, paura in via Riosparto. Ascensore a fuoco, palazzo evacuato. Incendio doloso in un palazzo Ater. Polizia e vigili mettono in salvo gli inquilini, tra cui due anziane disabili. Dieci gli intossicati. Poi ancora scontro sull'ex Ferrotel contestato il progetto. Forza Italia segnala irregolarità al Ministero, a rischio di 5,3 milioni per l'ostello. Ma Blasiole assicura la procedura è corretta. Otterremo quel finanziamento. Poi ancora, pagina 17. Il centro ostaggio dei mendicanti. La Confcommercio denuncia un incremento del degrado. Immagine indecorosa della città. Il comune intervenga. Poi un'altra piaga del centro cittadino. Movida invia Battisti incontro in prefettura per le nuove regole. In basso, solidarietà fa sport. Ciclisti paralimpici ritiro in città. I pluripremiati azzurri si preparano alla Coppa del Mondo in Olanda. Ieri a Palazzo di Città la presentazione di questo raduno con il ciclista paralimpico Addesi. Vediamo. La Nazionale Paralimpica di ciclismo svolgerà un ritiro a Pescara dal 5 all'11 giugno per preparare dei grandi appuntamenti che ci saranno in questa estate. Per Paolo Addesi parliamo di questa avventura che inizierete a breve ma anche di solidarietà. Sì, un ritiro importante perché in vista della terza prova di Coppa del Mondo che si svolgerà in Olanda a fine giugno e poi ci sarà un lavoro concentrato per i mondiali in Sud Africa che ci saranno a fine agosto. Una Nazionale che torna in Abruzzo. Questo è un appuntamento importante perché rientra in un progetto che è nato con il comune di Pescara, il progetto Solidarietà Fastport dove comunque ci saranno delle giornate e saremo impegnati sia in una pedalata della solidarietà che si farà l'11 giugno a Pescara e poi il 7 ci sarà la premiazione a conclusione di questo progetto sempre qui nel Palazzo di Città con la partecipazione della Nazionale e delle altre associazioni che hanno fatto parte di questo progetto importante perché è un progetto svolto all'interno delle scuole, un messaggio portato ai ragazzi perché comunque di fronte alle difficoltà, alla disabilità non bisogna fermarsi. Ci sono tanti atleti che hanno trasformato questa sfortuna, tra virgolette, in un'opportunità. Quindi comunque il messaggio è questo, mai arrendersi e magari dalle cose più brutte tirare fuori il meglio di noi. Questa è una partnership che si rinnova, abbiamo già avuto due ritiri, uno a Pineto e uno a Francavilla al mare, questo è il terzo che si darà a Pescara, quindi ciò dimostra che c'è una partecipazione del Comitato Regionale e dell'attività di questa nazionale importante. Di questo dobbiamo ringraziare soprattutto sia il commissario tecnico Mario Valentini ma direi anche Pierpaolo Addesi, il nostro atleta di punta in questo tipo di attività che si deve fare tantissimo, oltre che come atleta agonista, ricordiamo che ha partecipato a campionati del mondo e paralimpiadi ma anche come organizzatore sia di eventi di nazionale paralimpica ma sottolineerei che si impegna anche nell'attività giovanile. Proseguiamo con la rassegna Maremonti, una lista di tangenti al processo sulla strada fantasma, appenne la rivelazione di un investigatore, la corruzione mascherata dalle consulenze. Con il documento, leggiamo il documento dell'accusa. Avanti con pagina 19, udito screening gratuiti e lezioni nelle scuole, fa tappa a Città Sant'Angelo la campagna MAICO di prevenzione dei disturbi, ai ragazzi saranno illustrati i corretti stili di vita, attenti alla musica in cuffia. E poi ancora la pagina di Montesilvano, a Villa Verrocchio, sicurezza, i cittadini assoldano Vigilantes, dopo gli appelli contro i furti, prostituzione e spaccio, il comitato di quartiere di Via Firenze decide di autotassarsi e pagare dei privati. In basso, murati tutti gli accessi alla Stella Maris, dopo l'aggressione con Pitbull a un vigile, la provincia procede alla chiusura, resta il nodo parcheggi. Poi le pagine dedicate dal centro al forum sui trasporti, dieci obiettivi per un Abruzzo moderno, con esperti a confronto sulle criticità e le potenzialità del sistema trasportistico regionale. Leggiamo, c'è il nodo, chiaramente, della sicurezza sulle autostrade, sbloccati 111 milioni per interventi sul tracciato abruzzese, posta la fiducia sulla manovrina. E poi il parere del parlamentare del PD Castricone, ora occorre ragionare sulla modernizzazione del tracciato, il progetto del concessionario Strada dei Parchi è una proposta utile per l'Abruzzo e il lungimirante, che non va demonizzata sulla base di posizioni pregiudiziali. E poi altri punti toccati nel forum, il progetto di Strada dei Parchi, primo step, rottamare il viadotto di Pietra Secca. E poi ancora, per quanto riguarda il trasporto su rotaia, abbatteremo i tempi su Roma e Pescara sarà una delle 14 torri di controllo. Il direttore di produzione di RFI ci lasceremo i disagi alle spalle, già molto è stato fatto e rivoluzioneremo le stazioni. Entro il 2018 su tutta la linea adriatica arriverà a viaggiare fino a 200 chilometri all'ora. Avanti, usciamo dalle pagine sul forum per i trasporti e per l'autostrade. Torniamo alla cronaca. Francavilla, Spazio Famiglia, apre i battenti, inaugurazione in un'area riservata agli incontri protetti in via Sant'Elena, predisposto anche un servizio gratuito dal 23 agosto per le terme di Caramanico. A Penne, dopo 61 anni, la città perde la caserma della Polizia Stradale. Il distaccamento di via Guido Rossa è stato chiuso lunedì trasferiti i cinque agenti. Il SIULP altri tagli sulla sicurezza. Pagina di Chieti. Acqua e rifiuti. Uno su cinque non paga. Il recupero dell'evasione locale al primo posto di teatro e servizi. Dall'Atari minori entrate per 1,5 barra 2 milioni di euro. Le parole del sindaco Umberto Di Primio. Per anni abbiamo dovuto affrontare problemi di liquidità e questo ha bloccato le attività dell'ente. In taglio medio, Lanciano apre le porte a 90 rifugiati. Il comune chiede di aderire alla rete Sprar per raccogliere in strutture private i richiedenti asilo. E poi sempre a Lanciano, in basso, la Asla annulla il bando da 10 milioni. La gara per il trasporto malati era stata già sospesa. Servizio prorogato fino al 31 dicembre. Pagine ora di L'Aquila e Teramo. Tragedia di Pratola Perigna. Così ho provato a salvare mio figlio. Nelle parole del papà del 19enne trovato morto nel letto. Nessuna sostanza scoperta in casa. L'autopsia non scioglie i dubbi. Nella camera di Antonio c'erano solo aminoacidi utilizzati in palestra e uno sciroppo per la tosse prescritto dal nostro medico. Queste sempre le parole del papà della vittima. E poi in taglio medio Capoclan Bidognetti, arresto bis in città, detenuto a preturo, ha ricevuto in cella un ordine di custodia perché presunto mandante di un omicidio. In basso, morti del 118, una medaglia alla memoria, cerimonia all'Assemblea nazionale del CAI. Ricordati il medico aquilano Bucci, De Carolis e Matrella. Nella pagina Teramana il focus è sull'inchiesta Castrum a Giulianova. Entrano nell'inchiesta i grandi progetti edilizzi. La procura accende i riflettori sulla riqualificazione delle ex acciaierie del sud ma anche sulla lottizzazione costa verde e la costruzione di 18 alloggi popolari. Ultimati gli interrogatori di garanzia, alcune difese potrebbero far ricorso al tribunale del riesame. E poi gli sviluppi della vicenda, anche dal punto di vista politico, civicamente molla la maggioranza. Il gruppo sospende la propria attività perché ora bisogna frenare. Noi invece ci fermiamo, diamo lo spazio alle previsioni del tempo, alla pubblicità e poi ci ritroviamo per sfogliare le pagine di messaggero della città a tra poco. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di Mattino 6 che riprendiamo con il messaggero Abruzzo. Abbiamo visto il titolo, possiamo tornarci. Rebus delle politiche tra sistema tedesco ed elezioni anticipate. Si complica la corsa a Roma dei parlamentari uscenti e degli aspiranti. Lo sbarramento preoccupa i partiti minori. Il voto in autunno spiazza consiglieri e assessori regionali tra i piccoli tormenti per articolo 1 Chiavaroli e Sottanelli. E poi ancora Industria 4.0. Nessun Ateneo abruzzese nella mappa dell'innovazione italiana nell'accordo siglato al Ministero FCA ha dato l'ok al piano di ricerca sulla mobilità del futuro. Siamo alle pagine di Pescara. Aggressione fascista. Due denunciati sono stati individuati dalla Digos i presunti responsabili del pestaggio davanti al circolo Scummin via delle Caserme. Perquisizioni hanno portato al ritrovamento e al sequestro di libri su Hitler e Mussolini. In un'auto c'era anche una mazza. Un 39enne pescarese e un 28enne giuliese devono rispondere di lesioni per aver colpito due ragazzi. La polizia cerca collegamenti con altri episodi di matrice omofoba o neofascista dei giorni scorsi. Poi ancora bene l'indagine rapida. Non vogliamo i violenti. Queste le reazioni. Applauso del sindaco la Digos. Acerbo e Santroni dicono non erano balordi ma fascisti. Giusto intervenire subito. Poi ancora borgo dei pescatori fra topi e macerie. Bloccato il recupero. Da mesi l'autorità di Bacino non dà risposte all'istanza del comune per il progetto. Il degrado assilla i residenti. Lavori condizionati dai rischi in caso di esondazione del fiume. Le associazioni conservare il sito. E poi sempre per la cronaca pescare a rogo in un palazzo si è intossicati. Allarme nella notte in uno stabile ater di Vierio Sparto. I cento residenti intrappolati da una colonna di fumo nero. E il terzo episodio nel giro di pochi giorni. La natura dolosa dell'incendio pone i problemi di vigilanza e manutenzione. E poi in basso Satiricom. Festa dell'umorismo tra museo colonna e spiaggia. Vediamo il servizio della nostra redazione. A Pescara non poteva mancare un festival di Satira nella città di Flaiano. La Satira in Italia che prima molto attiva, molto accesa, che i giornali come Cuore, i parmi televisivi come l'Ottavo Nano, eccetera, sia un po' affievolita. Ma intanto è entrata fortissimo nel web. La Satira web sta sconfiando con dei grandissimi nomi, coinvolge molto. E dovremmo quindi fare dall'anno scorso un appuntamento nazionale con il meglio della Satira che abbiamo in questo paese, con il meglio della Satira web e con tantissimi ospiti. L'anno scorso tentammo questo esperimento e andò benissimo con una enorme partecipazione. Quest'anno lo rifacciamo implementato, durerà un giorno in più e si farà al museo Vittoria Colonna di Pescara, un luogo bellissimo che sarà acceso da intelligenza, idea, risate e Satira per tre giorni insieme. Questa manifestazione nei tre giorni vedrà susseguirsi workshop, battle di Satira improvvisata, le finali della musica del merda World Cup presso uno stabilimento balneare, ma soprattutto vedrà oltre 30 eventi, tra cui l'evento di punta è sicuramente lo stand-up on the beach, quindi open mic sulla spiaggia con nomi quali Saverio Raimondo e buona parte dello staff di Comedy Central Television. Oltre a questo, dicevo, oltre 30 pagine che vanno da fotografie segnanti alle più belle frasi di Osho, a Carlo Maria Rogito, a prodotti a chilometro zero del territorio, della Satira del territorio, dico un nome su tutti, Fabio Celenza, diventato incredibilmente famoso con i suoi doppiaggi su YouTube. Riprendiamo sul messaggero e passiamo alle pagine aquilane. Dalla ricostruzione spunta nostra, ordinari tesori e bellezze. Ieri il tour di alcuni stabili, tra cui i palazzi camponeschi ed ex Carispa, che il restauro del teatro comunale ha restituito gli antichi affreschi. Una spettacolare stanza tutta dipinta con un cassetto nato cinquecentesco e riemersa a Palazzo Carli Porcinari. Poi ancora in basso, sinfonica sul podio, un giovanissimo al giovane maestro d'orchestra Cesare Della Sciucca verrà consegnata una borsa di studio offerta dal Lance. Poi le prossime comunali all'Aquila, la sfida della Pagliariccio, prima gli aquilani, su tutto, confronto con l'esponente di Casa Pound che ha scelto la fontana delle 99 Cannelle. La città è satura, i centri di accoglienza andrebbero dirottati in altri luoghi. Né a destra né a sinistra la nostra è una battaglia politica identitaria, dice la candidata di Casa Pound che prosegue con i salviniani, era stato avviato un discorso poi naufragato. Biondi, la sua scelta non la condividiamo. E poi ancora i candidati a Confindustria, firmata intesa per la ripresa, tutti e sette hanno firmato un documento a margine del confronto con gli industriali, i sette candidati a sindaco della città dell'Aquila. E poi ancora Antonio spunta l'ipotesi degli integratori. Ieri l'autopsia sul 19enne di Prato l'ha trovato morto nella sua camera da letto. Tra 30 giorni i risultati ufficiali qualche risposta potranno darla gli esami su alcuni flaconcini rinvenuti accanto al cadavere dai carabinieri. È stata esclusa la possibilità di un soffocamento o di un avvelenamento. Oggi pomeriggio i funerali. E poi ancora ricostruzione bloccata, lance in campo. Le parole di Tirimacco. Non abbassiamo la guardia e monitoreremo quotidianamente il processo di sinergia. Avanti con le pagine di Chieti e provincia. La rabbia delle associazioni. Porteremo i mobili in strada. L'ex caserma è destinata a casa dello studente. Entro il 30 giugno i locali devono essere liberati. I presidenti chiedono incontro al sindaco e puntano ad ottenere l'ex collegio Santa Maddalena. Il comune ha mandato l'avviso di sfratto a tutti i sodalizi che hanno sede nella Pierantoni. L'immobile è stato ceduto e incomodato a Lazzu in vista dei lavori. Poi ancora chiude la polizia postale e protesta. Il SAP scrive così si impoverisce il territorio. Scende in campo Fratelli d'Italia. Il caso in consiglio. E poi a Lanciano le multinazionali valutano i nuovi talenti. I manager di Sevel, Pelliconi, Pierburg, DL Servizi, Isringhausen ed LG Automotion. Ieri presente l'istituto tecnico industriale. I finalisti di Tecnicamente sono tutti studenti. Per loro si potrebbero aprire immediatamente le porte del lavoro. Il preside Orecchioni dice che vogliamo essere al passo con i tempi, soprattutto nella formazione. A Ortona lo storico Teatro Tosti ha bisogno di restyling. A luglio chiuderà i battenti per procedere alla sistemazione degli interni. A Vasto, Alzheimer, i malati sono dimenticati. Mancano strutture sociali di supporto alle famiglie. Il bilancio del Rotary. Andiamo ora con le pagine di Teramo e provincia. La situazione in comune a Teramo. Crisi ancora incertezza sulla nuova giunta comunale. Campana e Micheli annunciano non rientriamo in maggioranza. Di certo c'è solo la data del 6 giugno con la convocazione del consiglio alle 18. Il sindaco Brucchi nel weekend avrà un colloquio informale con Paolo Gatti e Paolo Tancredi. Sono sereno, dice il sindaco, farò decidere l'assemblea dopo aver esposto il programma. Ruolo in Parlamento, si chiede il messaggero. E poi, lo abbiamo già visto, Bar Grande Italia imposta la chiusura per 5 giorni. Siamo a Giulianova. Il bilancio civicamente esce dalla coalizione. Il consiglio comunale ha chiamato a votare il consuntivo. Alla vigilia arriva la decisione del gruppo civico che non voterà il documento. Vasanella del PD ha chiesto la presenza della segretaria Marini e del dirigente Pirocchi e dei revisori. No compatto dell'opposizione. Tira aria di elezioni. Arboretti, Cresciamo, Mercante, pronti a vincere. E poi riapre il Manacara, Tempio della Movida a Tortoreto. Risolto il contenzioso giudiziario con i titolari. Si riparte in grande stile. Lasciamo il messaggero Abruzzo e ci spostiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo con un altro atto del dossier Ruzzo, quel Galileum delle promesse mancate. La sicurezza dell'acqua che beviamo e dei laboratori del Gran Sasso sono una emergenza nazionale da non trattare come il centro di astrofisica annunciato ai Terramani e trasformato in museo delle BF. Il Galileum inaugurato nel 2008, il museo della scienza è durato appena due anni. Oggi è stato totalmente smantellato. Avanti ancora, verso le elezioni c'è l'ordine. Non parlare più di ospedale unico. In vista delle politiche il PD teme spaccature territoriali e perdita di consensi che potrebbero danneggiare il voto. Proprio a Teramo l'assessore regionale Paolucci aveva invece manifestato l'intenzione di decidere la sede entro il mese di giugno. In basso, crack di Mario. Il processo è eslittato a settembre. Prima di aprire il dibattimento i giudici vogliono valutare la possibilità di un accordo tra banche e curatele fallimentari. Avanti ancora, demolizione. Ospedaletto non se ne parla. Dalla sovrintendenza arriva lo stop alle ipotesi avanzate dal sindaco e dal manager dell'ASL. Poi ancora, una settimana ancora per risolvere la crisi. Prima del Consiglio Comunale di martedì la riunione di maggioranza decisiva per l'amministrazione. E poi ancora, Porta Romana torna a misura di bambino. Gli architetti e due associazioni civiche allestiscono un laboratorio di cittadinanza per i più piccoli in pieno centro. In basso, due defibrillatori operativi in piazza grazie ai fondi del club bianco-rosso posizionati in piazza Martiri e in piazza Progresso a San Nicolò a Tordino. Noi eravamo presenti ieri a questa cerimonia di consegna. Vediamo. Il club bianco-rosso di Teramo regala alla propria città due defibrillatori a colonna da posizionare in due spazi pubblici, piazza Martiri e piazza Progresso a San Nicolò. Un progetto sociale da 4.000 euro interamente finanziato con il tesseramento dei sostenitori del Teramo calcio, un gesto d'amore dei tifossi verso i Teramani. È un'iniziativa del club bianco-rosso, fa parte dei progetti legati al sociale ed è denominata cuore bianco-rosso e prevede la donazione di due stazioni di defibrillazione alla città di Teramo. Dove saranno ubicate? Saranno ubicate una in piazza Martiri, nella centrale piazza Martiri e l'altra a piazza Progresso a San Nicolò a Tordino. Abbiamo cercato di coprire un po' tutto il territorio perché diciamo anche come club abbracciamo insomma anche la tifoseria non solo di Teramo Teramo ma anche delle frazioni. Ma perché proprio due defibrillatori? Diciamo è stata è stata un'idea un'idea diciamo nata durante i consigli direttivi, volevamo fare qualcosa per la città perché diciamo la tifoseria è vero che fa riferimento alla squadra di calcio però di fatto l'amore per la squadra di calcio è un amore anche per la città di Teramo e abbiamo visto insomma che a Teramo mancava una stazione delle stazioni di defibrillazione a disposizione 24 ore su 24. Il club bianco-rosso di Teramo non si è limitato al dono dei due defibrillatori ma ha già formato 40 persone all'uso di questi dispositivi in collaborazione con la scuola di formazione del 118 di Teramo. Alla consegna dei macchinari in municipio ha partecipato anche il sindaco Maurizio Brucchi che ha scherzato ipotizzando la necessità di dotare la sala ipogea di almeno quattro defibrillatori per il prossimo cruciale consiglio comunale del 6 giugno. Sulla città le notizie dalla provincia tre indagati per la morte del camionista incidente alla metalferro il magistrato dispone l'autopsia e sequestra il mezzo dell'autotrasportatore il sostituto procuratore Sciadretta ha iscritto nel registro degli indagati tre persone responsabili della sicurezza come atto dovuto per effettuare l'autopsia sul corpo della vittima. L'esame sarà svolto domani dalla dottoressa Quaglione. Il 31enne di Napoli è rimasto schiacciato da un imballaggio mentre lo caricava sul suo camion. Di gennaio il futuro si decide in 20 giorni. Ieri la donanza dei creditori che dovranno scegliere se accettare il concordato il colosso dell'edilizia e alle prese con un indebitamento che supera i 60 milioni di euro. Poi in basso un milione di avanzo nel bilancio di Corropoli approvato in consiglio e consuntivo dello scorso anno. In arrivo diverse opere. Siamo a Giulianova. Bilancio 20 di crisi su Mastro Mauro. Ragni e Mustone si autosospendono. La palla passa nelle mani del PD. Sull'indagine interna annunciata dal Comune. Filipponi si dissocia. A me non compete controllare nulla. E poi ancora a Roseto rivoluzionata la viabilità di campo a mare. Dopo cinque mesi entra in vigore l'ordinanza e scoppiano le polemiche. Le intenzioni dell'amministrazione sono finalizzate ad assicurare un tracciato alternativo alla statale 150. E poi ancora esternalizzazioni degli impianti e bici in Viale Macarska. I temi sul banco della maggioranza chiamata oggi a sciogliere i nodi sulla Movida. Poi sempre a Roseto i ticket della mensa troppo cari e introvabili. Il sistema ideato dal Comune di Roseto non piace ai commercianti che devono pagarli in anticipo prima di vederli. Le parole dell'ex assessore comunale Recchiuti aumentando le tariffe del servizio mensa. Il Comune è in camera 20 mila euro a fronte di un bilancio di 28 mila anni penalizzando così le fasce più deboli. Andiamo alla pagina dello sport della città. Il Teramo è la strana eredità lasciata dal play-out. Uno spareggio vinto dopo 53 anni e la categoria salvata non cancellano gli enigmi. Intanto c'è Federico in pole. Doppia coppia per ripartire Federico Palladini o Bocchetti Epifani sono le coppie che si contenderanno il ruolo di direttore sportivo e di allenatore. Ma con i due ex-samb c'è già un accordo di massima per l'anno prossimo. Quale futuro ora? La doppia sfida contro il Lumezzana certificato le pecche di una programmazione inesistente. Per il basket, Teramo Basket e Piero Bianchi insieme anche nella prossima stagione è ufficiale il prolungamento del rapporto tra la società bianco-rossa e l'allenatore che ha centrato la salvezza in serie B. Abbiamo aperto le pagine dello sport. Allora prima di passare al centro e al messaggero diamo uno sguardo rapido alle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali con la gazzetta che apre con il patto del diavolo. Montella-Milan. L'allenatore ha prolungato fino al 2019 3 milioni a stagione con premio di 500 mila euro per la qualificazione in Champions e ha chiesto rinforzi e spogliatoi moderni. A proposito di rinforzi, visite infinite perché oggi potrebbe arrivare l'ok tanto atteso. Poi altri richiami. Cardiff-3, Boban con Allegri anche se il Real ha maggior classe. Zizou, missione finale per noi è Dybala il pericolo numero uno. L'incontro, Moratti-Berlusconi, il derby nostalgia e Silvio dice forza Juve. Spalletti, io contro Totti, mai gli ho fatto fare un anno in più. E poi la nuova avventura, ora lo aspetta l'Inter. Parliamo di Andrea Conti. L'Inter che vuole tenere Petisic e vuole avere appunto Conti e il difensore della Roma, Rudiger. E poi in basso, nazionali ipotesi Maldini come super manager. Avanti con il Corriere dello Sport. Milano li vuole tutti. Milan e Inter all'assalto dei gioielli di Lazio e Roma. Montella firma fino al 2019 e attende l'arrivo di Bigli e Keita. Cassi non passa le visite mediche. Spalletti saluta la capitale e chiede a Zang tre giallorossi. Nainggolan, Rudiger e Gerson. Poi ancora Dybala fa paura. Sabato la finale di Champions. Febbre altissima. Zidane avverte il Real. Paolo pericolo numero uno. Via all'esodo Juve. 18.000 in marcia. In basso, De Laurenti Sarri. Patto per il Napoli. Festa a Benevento. Finale con il Carpi dopo l'1-1 di ieri sera a Perugia. Moto Mondiale e Valentino ci prova. I tifosi lo aspettano. Tutto sport. Sì, Schick va alla Juve. Sabatini ritira l'Inter dalla corsa al talento della Samp. Penso l'abbiano già preso i bianconeri. E poi il toro che vuole Mika da Sirigu a Falcinelli. Al sogno proibito perotti. Il tecnico ha chiesto rinforzi di qualità in ogni reparto. Milan prolunga. Montella prolunga. Obiettivo Champions. Pionze. Poi in basso, se il fuoriclasse si autodistrugge, il caso Tiger Woods solleva interrogativi. Da Garrincia a Best, da Tyson a Pantani, da Monzon a Gascogne. Tanti sono gli assi caduti in disgrazia. E ora torniamo ai quotidiani locali. Siamo sul centro Pescara Sudore e 600 gradini. Zeman studia il rilancio. Blitz del Boemo a Rivisondoli e Palena. Il Milan su Coulibaly. Il tecnico ha visitato i due centri del ritiro estivo ed è rimasto colpito dalla scalinata di Rivisondoli. Mercato. Sebastiani incontri rossoneri per il baby senegalese. Il delfino all'assalto di Vido e Pessina. Piace dichiara. Oddo, con un messaggio criptico lanciato sui social, in particolare su Instagram, chi scarica colpe lo fa per non ammettere i propri limiti, dice l'ex tecnico biancazzurro Massimo Oddo. In basso, Serie D, incontro col patron Chiodi, c'è l'intesa per la cessione dell'Aquila. Desimoni a capo di una cordata che vuole rilevare il 70% delle quote. Lega Pro, il Teramo incontra il DS Federico e pensa a Palladini. Il patron Campitelli inizia a progettare il futuro da definire la posizione del dirigente Scacchioli. E per la Serie D, il DS Miciola verso la Vastese. Poi, ancora, per il calcio A5, Pescara verso il Pienone per la prima finale Scudetto. Domani sera al Palagio Anipalo II, la sfida contro la Luparense. Migliorano le condizioni di Salas, ma resta in dubbio diretta TV su Fox Sport. Per la pallavolo di A2 sarà il centrale Menicali, il secondo rinforzo della SIECO impavida. Lasciamo, anzi no, restiamo sul centro perché parliamo di basket. Vediamo la pagina del basket. Proger di Cosmo riflette e spera nel ripescaggio. I margini per tornare subito in A2 sono ridotti, ma ancora percorribili. Il presidente dopo la retrocessione in Serie B sto pensando a diverse ipotesi. A proposito di Serie B, ieri gara 2 della finale play-off. Campli cade ancora, Montegranaro va sul 2-0. Venerdì sera gara 3 al Palaborgognoni di Campli. Ecco qui 65-58 la vittoria di Montegranaro. Rapidamente anche sul messaggero con le pagine dello sport. Un attimo perché le ritroviamo. Eccole qui, Curipari, ecco l'Atalanta. Il club bergamasco si fa avanti e offre in cambio il giovane esterno d'attacco Capone, stellina della primavera bergamasca. Si lavora a una mega trattativa con l'Inter per avere Palazzi, Di Marco e il difensore olandese Fanoisden. E poi Oddo si sfoga su Instagram. Si perde tutti insieme. Tornando al mercato, a centrocampo si aspettano offerte per Brugman e Memuschai. Può arrivare Scozzarella, l'ex centrocampista del Trapani. Per il calcio a 5, Cimanghigno lancia la sfida pronto per la finale. Il brasiliano è tornato in forma dopo i guai fisici, vuole essere protagonista contro la Luparense. Per la Lega Pro, Teramo e San Nicolò, matrimonio a rischio. Per ora salta l'incontro tra i due club per discutere dell'ipotesi di sinergia, ma sarà una settimana decisiva. Il vero problema resta la creazione di una società di gestione congiunta. Presto un incontro con il DS Sandro Federico. E poi per il basket, il sogno del Campi dura solo un tempo. Vince Montegranaro. I marchigiani si portano in vantaggio per 2-0 nella serie di finale play-off. Finiamo qui con la nostra rassegna stampa di mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Io ringrazio Silvia Gentile in regia e ringrazio voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.